Anche io sono qui a Montecitorio per protestare contro la legge 54 del 2006. I miei bambini sono stati prelevati da scuola e affidati al padre violento. Sono tre anni collocati presso la casa della compagna del mio ex marito. Tutto questo perché anche io sono stata accusata di presunto rischio di alienazione parentale. Oggi qui chiediamo nuovamente per l'ennesima volta, sperando che finalmente noi mamme siamo ascoltate, che vengono ascoltate anche i nostri figli. Chiediamo l'annullamento delle sentenze basate sull'alienazione parentale. Qualora sia stata applicata in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tribunale che sia civile, penale o anche minorile, chiediamo l'annullamento e vogliamo, pretendiamo assolutamente l'immediata restituzione dei nostri figli, che sono in condizioni psicologicamente molto gravi.